Ciao a tutti, vi racconto adesso una grande storia d'amore tra l'Europa e Ahmed Chataev, un cittadino russo, ceceno, che la Russia cattivona ha inserito nel suo elenco dei terroristi e che ha fatto ricercare dall'Interpol, non so le date, penso all'inizio del nuovo millennio. Per cosa? Per perate di terrorismo, immagino legati alla guerra che c'era stata in Cecenia. Allora nel 2003 Chataev ha ricevuto diritto d'asilo in Austria, perché? Perché anche lui era uno dei tanti poveretti perseguitati dalla Russia. Dopo saltiamo al 2008, anno in cui Chataev è stato arrestato in Svezia, perché gli hanno trovato che aveva la macchina col bagagliaio carico di esplosivi, o di armi, di armi anzi. È stato in prigione per nove mesi e poi è stato rilasciato, perché ovviamente uno che ha la macchina carica di armi, più di nove mesi in prigione non può stare, no? È stato rilasciato, libero di girare per l'Europa. Nel 2010 lo troviamo in Ucraina, arrestato dalla polizia ucraina, che ha trovato che aveva sul telefonino, non so come gli hanno fatto trovarlo, però aveva sul telefonino delle foto di vittime di attentati terroristici e aveva dei piani, degli schemi per costruire esplosivi. È stato arrestato in Ucraina e siccome c'era la richiesta pendente della Russia di estradizione, la stavano considerando in Ucraina. Quel tempo, adesso non mi ricordo che governo c'era, ma sicuramente non era così ostile alla Russia come adesso. E cosa è successo? Beh, che i soliti note di Amnesty International e della Commissione per i diritti umani dell'Unione Europea hanno richiesto, hanno fatto richiesta all'Ucraina di non estradare questo personaggio. Se trovo i documenti vi metto in descrizione, in caso non ci credete che la Commissione europea sia unita, no, la Commissione dei diritti umani dell'Unione Europea sia unita a questa richiesta. Hanno chiesto all'Ucraina, hanno detto all'Ucraina, no, guarda, non estradarlo in Russia, perché lì sarebbe torturato, poverino. Benché non ci sia nessuna traccia, nessuna prova che la tortura venga sistematicamente nelle prigioni russe. Possono esserci episodi isolati, ma come al solito pensiamo ai nostri, Stefano Cucchi ed altri, può succedere. Allora, hanno detto no, non fate l'estradizione e l'Ucraina ha obbedito, quindi non ha mandato Chetayev in Russia e l'ha rimesso in libertà. Passiamo al 2011, mi pare, e ancora questo personaggio viene bloccato in Bulgaria. Veniva dalla Turchia, le guardie di confine tra Turchia e Bulgaria l'hanno bloccato, l'hanno arrestato. E' ancora processo di estradizione, è ancora bloccato, non so perché l'hanno arrestato, sinceramente. E vabbè, e dopo? Cosa è successo di questo signore? Beh, che nel febbraio del 2015, questo si è unito all'Isis, è andato in Siria e adesso fa parte dello Stato Islamico. C'è qualcosa di male in tutto questo? Beh, per ora si potrebbe anche lasciar passare. La tragedia è arrivata a giugno dell'anno scorso, nel 2016. Il 28 giugno, aeroporto di Istanbul, due terroristi si sono fatti esplodere, causando più di 40 morti, mi pare 48, 48 morti che ho visto adesso su Wikipedia, e più di 230 feriti. Quindi, ripetiamo i numeri perché, per capire un po' la prospettiva, 48 morti, più di 230 persone ferite. Esplosione all'aeroporto di Istanbul. E la mente che ha ideato questo attentato terroristico, sapete chi è? E' il nostro, Ahmed Chataev. Ci sarebbe ben poco da aggiungere. L'unica cosa che... L'osservazione è che in pratica il nemico della Russia viene fatto passare immediatamente come un santo, come una persona che ha bisogno di protezione, in ogni situazione, senza entrare nemmeno nel merito, noi in Occidente, o meglio i nostri politici, o non so chi per loro, ritiene automaticamente che chi è nemico della Russia sia nostro amico, sia una persona per bene. Pensate un po' anni Ottanta, quando c'era l'invasione, beh, bisogna vedere come la si vuole chiamare, però diciamo l'intervento armato sovietico in Afghanistan, chi era il nostro eroe lì? Era Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era l'eroe che lottava contro i cattivi sovietici. E la chiudo qui. Ci sono tanti altri episodi di cui si potrebbe parlare, questo l'ho detto perché è abbastanza pesante, insomma, che si dia asilo politico. Voglio dire, può anche essere, voglio dire, se noi avessimo le prove che questa persona verrebbe certamente torturata, vabbè, ci può anche stare che non lo estradiamo, ma non mettiamolo in libertà, teniamolo nelle nostre prigioni piuttosto, facciamo noi le indagini, chiediamo ai russi di collaborare su questo, rimettere in libertà una persona così è davvero da fogli. Con queste note lamentose di protesta vi saluto, buona giornata.